Beh, piuttosto che la confusione, i ritardi, i litigi, i rimpasti, la primissima Repubblica, la caccia e la compravendita di qualche senatore che non vuole mollare la poltrona per garantire il futuro a PD e 5 Stelle, io penso che gli italiani in questo anno di sofferenze abbiano dimostrato enorme responsabilità, generosità, buonsenso, lo saprebbero dimostrare anche in cabina elettorale.